accanto ai grandi vecchi della narrativa israeliana contemporanea che è notevolissima e dico abram yoshua david grosman amos oz ce ne sono altri importanti primeggia fra di essi esco il nevo che ha passato i 40 anni ed è un nome importante abbiamo imparato a conoscere i suoi romanzi a partire dal primo nostalgia che è molto bella c'è un altro ancora più bello forse che è la simmetria dei desideri e altri ancora adesso ne ripozza ha tradotto l'ultimo romanzo di esco il nevo che si intitola tre piani ed è una bella invenzione la sua intanto la conferma di uno stile narrativo e di una forza letteraria importanti tre piani perché esco il nevo scruta i tre piani di un caseggiato la periferia di tel aviv siamo nell'israele contemporanea con tre storie familiari con tre nuclei con tre gorghi con dei grovigli anche perché ci sono i sentimenti i desideri i falimenti le ammaccature c'è il desiderio di essere amati e di amare ma ci sono anche i tradimenti poi ci sono delle situazioni un po marginali anche dolorose c'è il vecchio signore che ha i primi sintomi dell'alzheimer c'è una bambina che forse ha subito uno shock che era segnata chissà c'è una donna giudice rimasta vedova che vuole dialogare con il marito defunto e scopre che lo può fare con una vecchia segreteria telefonica c'è una giovane madre e moglie che sente tutta la sua solitudine esistenziale e ne parla con un'amica che sta dall'altra parte del mare negli stati uniti e poi le storie fra di loro si intersecano anche e scolnevo ha una grande capacità quella di presentarci come dire i sentimenti umani con una nitidezza con una limpidezza narrativa è uno scrutatore delle psicologie e questi tre piani sono anche un po tre piani dell'animo umano il conscio l'inconscio sono i tre storie familiari si dimostra questo scrittore molto bravo nel narrarci il battito della vita quotidiana con tutte le sue ferite i suoi desideri e questo desiderio anche di riscatto del bene di fronte a tutti gli imprevisti a tutte quelle che ho chiamato io le ammaccature della vita che non sono tanto fisiche quanto morali psicologiche affettive esco il nevo tre piani la conferma di uno scrittore vero israeliano